Un lungo percorso iniziato nel 2011 con un protocollo di intesa tra il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero dell'Ambiente e la Regione Basilicata e che oggi, finalmente, potrebbe vedere la luce con l'ospicata approvazione entro la fine della legislatura in corso del primo piano paesaggistico regionale. Si tratta di un imponente documento di oltre 3.000 pagine che contiene una ricognizione dell'intero territorio lucano suddiviso per zone e aree di interesse alle quali sono stati fatti corrispondere progetti e caratteristiche specifiche, tecniche e peculiari di ognuna. Un modo, ha sottolineato l'assessore regionale dell'ambiente Cosimo Lotronico, per offrire una lettura sistematica del patrimonio per rendere, in una visione d'insieme, il paesaggio lucano un valore. Cosa restituisce al territorio questo piano? Ma una lettura più puntuale, i suoi borghi, le sue aste fluviali, i suoi percorsi storici, le sue architetture rurali, i suoi paesaggi. Ora c'è una lettura sistematica di questa storia, i suoi cammini, i suoi fiumi, le sue coste. Quindi chiunque potrà leggere anche con gli strumenti tecnologici che sono stati utilizzati, ci sono file, cartelle che si possono attingere, anche chi dovrà fare una progettazione a strumenti di valutazione attraverso il piano paesaggistico, già oggi usufruibili. Un documento per rendere ancora più una risorsa, quindi la Basilicata? Sì, perché è una visione d'insieme. La Basilicata forse aveva trascurato l'idea che il paesaggio di per sé è un valore, ed è un valore soprattutto oggi, pensate al turismo di ritorno, il primo grande attrattore anche per le correnti turistiche internazionali è proprio la qualità, il valore del paesaggio, che è benessere, cultura, storia.